Salve a tutti ragazzi e benvenuti su 2RunRed Come vedete siamo ritornati dopo tanto tempo Siamo ritornati dopo tanto tempo, scusate ragazzi Siamo ritornati dopo tanto tempo per spiegarvi alcune cose molto importanti Ovvero che dopo due mesi riuscirò a ritornare a registrare Perché come sapete io spesso e volentieri vi avevo detto che avevo dei problemi Muore bastardo, ok ma fa Avevo dei problemi con lo spazio insufficiente per registrare dei gameplay decenti Bene, io ho formattato il mio pc più che altro E sono riuscito a guadagnare 70 GB di spazio Non so come è sul serio perché alla fine ho quasi installato tutti i videogiochi che ho su Steam E quindi grazie a questa cosa, anche se non ho preso l'hard disk nuovo Posso registrare e mostrarvi dei bei, cioè posso rifare di nuovo dei bei gameplay O almeno ci spero di farli decenti Come vedete adesso siamo su CSGO, ovvero un FPS come Call of Duty, abbastanza simile Solo con parecchie cose diverse E ce ne sono un sacco, ce ne sono tantissime insomma La cosa più importante comunque che volevo dire è che dopo tanto tempo ritorneremo Cioè ritornerò a registrare ma con molte cose diverse Aspettate un attimo Non dormire Faccio schifo A volte faccio pena Ho sbagliato io qui ad esempio Ok come dicevo ritorneremo di nuovo Con cose nuove ovviamente Perché la maggior parte dei gameplay che stavo facendo Ho perso i salvataggi Formattando il PC Però è anche quello ciò che volevo Cambiare il canale E presentare cose nuove In pratica cambieranno anche i giorni di registrazione Ad esempio prima erano solo 3-4 giorni che mettevo gli episodi Adesso voglio dedicare il più possibile quasi tutta la settimana Voglio dedicarvi con gameplay, con qualsiasi cosa Che poi vi farò vedere diversi giochi Voglio organizzare questa cosa fatta bene Cioè in pratica voglio un programma fresco, nuovo Con cose nuove e video di qualità Cioè voglio, non so Voglio dedicare più tempo in una giornata a un gameplay Farne di meno Però presentarvi cose belle O almeno cerco di fare questo Guarda quel bastardo dov'era Comunque questo è ciò che volevo dirvi di importante Molto importante per me Perché voglio cambiare Voglio migliorare Tutto ciò che sembrava sbagliato Comunque tutto questo tempo che è sembrato sbagliato Che cazzo è? Ah non è qui Beh ragazzi Queste erano le cose necessarie che volevo dirvi Vi ho spiegato un po' Che voglio cambiare Voglio presentare più cose nuove E anche molto più serie Cioè Credo di non essere portato per fare Diciamo gameplay comici Tipo ad esempio giocare Super Meat Boy Minecraft Che comunque La fine devi essere anche Abbastanza divertente Ciò che forse nel Nel mio caso Non riesce bene Probabilmente non riesce bene Quindi voglio presentarvi Tutti due giochi come questo Che sarebbe Contest Strike E altri giochi che Poi vi mostrerò Insomma Ce ne sono Veramente tanti Che voglio Fare delle serie molto Carine E presentarvele Cazzo Figlio di puttana Spero che questo Videogioco Mi piaccia Perché questo È uno È uno dei miei giochi Preferiti Io che non metto la pistola Quando sto caricando Questo è uno Dei miei giochi Sul serio Chiamo Da morire Cioè uno dei miei giochi Preferiti Non sono molto bravo Perché comunque Gioco Da 6-7 mesi Quindi devo ancora Migliorare molte cose Soprattutto la precisione Cosa che mi manca Molto Mio Dio Questo l'ha sciottato È sciottato anche me Questo Questo gioco Ha diverse modalità Ad esempio Questa qui Che stiamo giocando Cioè che vedete Si chiama Deathmatch Insomma Siamo tipo 20 persone 10 divise In diverse squadre Cioè siamo 10 terroristi E 10 antiterroristi Non stiamo Non siamo alleati Tra virgolette Però Non possiamo Uccidere quella Della nostra squadra E fare punti Cioè non puoi Nemmeno Non c'è Nemmeno attivato Il fuoco amico Insomma La cosa importante Ora È arrivare A rimanere Almeno nei primi 10 Ad esempio Ad esempio Ora io sono Il quinto Come vedete Sopra la classifica Su 20 persone Sono a quinto posto Dio Odio percare le persone davanti Perché mi faccio prendere Dall'ansia E inizio a sparare A cazzo La cosa più brutta Che posso mai fare Poi c'è quest'arma Ora vi farò vedere Qualcosina Quest'arma io non la so usare Ve lo dico eh Non vi aspettatevi Gesù Ti faccio schifo Per chi conosce il gioco Questa Questa è l'arma Tra virgolette Più forte Anche se per me Sinceramente I cerchini Non li so usare Cioè Non sono molto bravo Muori Bastardo Sono sceso un po' Dalla classifica Questa non è un video Devo un po' recuperare Dai Che possiamo farcela Cazzo Non l'avevo visto Questa sta dominando Su di me Non mi piace questa cosa Oh mio dio Odio questi qua Con le WP Mio dio Sono un problema Un rompimento di palle Allora vediamo Se ci troviamo qualcuno Cazzo Ma che cazzo Hanno ovunque Questi bastardi Guarda questo cazzo Di fucile A cerchino Muori Bastardo Oh Questo mi fa guadagnare Un po' di punti No cazzo Non sono riuscito a colpir Ah si l'ho colpito Però L'ho colpito male Vediamo se me lo da ancora No non me lo da Mi spiace Riuscivo a fare più punti possibili Oh Non l'avevo visto Proprio questo Si però cazzo Ovunque stanno Dio cane Cioè sta cosa è brutta Beccarli Sempre Cioè io li becco Sempre avanti Che rompimento di palle Riesco una volta A beccarli Distante Dove li vedo anche io Allora Scusate ragazzi Faccio un po' schifo Non sono riuscito A fare lo shot subito Allora Chi cazzo è Che cazzo è Cazzo stava Questo Allora Sono Ragazzi Sono al quinto posto Cosa molto difficile Per me Arrivare a queste posizioni Dietro Porco Madò Madò che palle Quando li becchi Dietro Cioè anche io Avevo quello davanti Però che cazzo Volevo aspettare Prima di uscire Madò che pena Che faccia Mamma mia Devo smetterla Di sparare Al raffico Questa arma E ancora Continuo io Non so se Sono io Che lagga O è lui Cazzo Non riuscivo a capire Pure c'ho 68 ping Non è che fa così Vaffanculo Boh Lo vedevo laggare in botta Non lo so Vaffanculo Vedi Io sono morto Solo per gli awip Di merda Quello sono Fuscili di merda Ci giocano Le persone In hub Fanculo Dai però Che cazzo Ma che palle Non riuscivo ad ucciderla Questa arma Mi farà guadagnare Un po' Tutto Tipo Se riesco Vorrò ad ammazzare Quella è la cosa difficile Va va Vai a cagare Ma devo mettere In punti dove Già sanno Dove cazzo sono Dio cane Allora Ragioniamo Non so dove cazzo Siano gli amici Però Abbiamo poco tempo Oh non muore Oh non muore Non muore Non muore C'è stato 80 Ma che cazzo Dove cazzo E' un po' E' un po' E' un po' Sì ok Sì ok Ora sto parlando Perché questa settimana Voglio impegnarmi Devo preparare il mio programma Devo vedere cosa Mi piace Se vi sia piaciuto Su serio Ci vediamo Alla prossima Notta Ciao a tutti Ragazzi Ciao a tutti